Sanità Enrico Desideri alla guida dell'area vasta del sud. Sulla scelta della sede interviene il governatore Rossi, deciderà il nuovo direttore generale. 1.200 metri quadrati di spazio e 19 postazioni chemioterapiche in più, inaugurato il nuovo centro oncologico di Arezzo. 2.200 metri quadrati di spazio e 19 postazioni chemioterapiche in più, inaugurato il nuovo centro oncologico di spazio e 19 postazioni chemioterapiche in più, inaugurato il nuovo centro oncologico di spazio e 19 postazioni chemioterapiche in più. Unione sportiva Arezzo e logistica per i campi di allenamento, nuova soluzione in città a Villa Severi, sabato al comunale arriva la Cremonese. Buonasera a tutti voi, ben ritrovati allo spazio dedicato all'informazione TSD Notizie. In apertura del nostro notiziario, la pagina della cronaca, spaccio di sostanze stupefacenti per un valore di mercato di oltre 20.000 euro. E' questa l'accusa che ha portato all'arresto di due uomini di origine tunisina da parte della squadra mobile della questura di Arezzo, che ha colto in flagranza di reato due nordafricani presso la stazione ferroviaria di Castiglion, Fiorentino. Durante un pattugliamento, gli investigatori della squadra mobile hanno notato K.R. le iniziali 50enne disoccupato a bordo di una Volkswagen Golf. Dopo un controllo sulla vettura, che è risultata essere intestata ad un tunisino con precedenti perspaccio di sostanze stupefacenti, la squadra operativa ha iniziato un pedinamento che li ha condotti fino alla stazione ferroviaria di Castiglion, Fiorentino. Qui l'uomo ha atteso l'arrivo di un treno dal quale è sceso un connazionale C.S. le iniziali. I due sono stati fermati e sottoposti a controllo dagli operatori. Durante la perquisizione, gli uomini della mobile hanno trovato due involucri di eroina contenenti 235 grammi di sostanza. I due uomini sono stati arrestati e sono stati portati in carcere in attesa del giudizio di convalida. La sanità Enrico Desideri, alla guida dell'area vasta del sud, sulla scelta della sede, interviene il governatore Rossi. Deciderà il nuovo direttore generale. Vediamo il servizio. La migliore garanzia che sarà una riforma che non toglie servizi ai cittadini è di pensare a nominare direttore dell'azienda della Toscana del sud, Enrico Desideri, che voi conoscete bene e che per impegno, per serietà, per disponibilità, per competenza, credo sia una garanzia che vogliamo andare a fare cose serie. Dopo le indiscrezioni dei giorni passati, a darne l'ufficialità è stato il presidente della regione toscana, Enrico Rossi, in visita ad Arezzo in occasione dell'inaugurazione del nuovo centro oncologico dell'ospedale San Donato. L'attuale direttore generale della ASL 8, Enrico Desideri, si troverà dunque a dirigere la sanità toscana del sud con l'area comprendente Arezzo, Siena e Grosseto. Nessuna novità al momento per quanto riguarda la scelta della sede per la Toscana meridionale, anche se con la nomina di Desideri potrebbero aprirsi nuovi spiragli, con il presidente Rossi che affida la decisione finale nelle mani del nuovo direttore generale della ASL di area vasta. L'unico punto fermo al momento è costituito dal fatto che tutto è rimandato al postelezioni. Intanto, come stabilito dalla legge regionale sulla riforma della sanità toscana, dal primo luglio le ASL attuali saranno commissariate, mentre le tre nuove aziende sanitarie entreranno in funzione a partire dal gennaio 2016. La riforma va fatta, perché altrimenti non riusciamo più a mettere insieme il pranzo con la cena. Ci sono stati tagli pesantissimi, bisogna riorganizzare, tagli decisi a livello nazionale. Due morti, il primo schiacciato dal trattore, il secondo caduto dall'alto e due intossicati. È il tragico bilancio di una settimana che conferma che uno dei settori maggiormente a rischio per gli infortuni sul lavoro continua ad essere l'agricoltura. Il lavoro è ormai diventato un campo di battaglia con un'inaccettabile lista di caduti. Sono intervenuti con queste parole Marco Rossi e Fabrizio Fabbroni, rispettivamente responsabili di salute e sicurezza di CGL e CISL. Per le due sigle sindacali a retine è necessario che il tema della tutela della salute sia nell'agenda delle istituzioni e degli enti. Vogliamo che la tutela della salute nei luoghi di lavoro, concludono i responsabili salute e sicurezza CGL e CISL sia tra i temi più importanti delle campagne elettorali e faremo sentire la nostra voce su questo tema anche in questa occasione. Il Consiglio Comunale di Arezzo, presentata la delibera sulla razionalizzazione delle partecipate, confronto aperto sulla fusione tra Atam e Arezzo Multiservizi. Arezzo accoglie il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e l'assessore alla Sanità regionale Luigi Marroni, in occasione dell'inaugurazione del nuovo centro oncologico dell'ospedale San Donato di Arezzo. Al taglio del nastro presente anche il direttore dell'ASL 8 di Arezzo, Enrico Desideri, fresco di nomina alla dirigenza della nuova ASL di area vasta sud-est Toscana. Pensate che noi parliamo di spazi, di comfort, di nuove tecnologie, c'è un software gestionario, le luci a LED, i colori avvolgenti, la nuova palazzina per fare l'ospis, il raddoppio degli spazi, delle poltrone, i dati che ci dicono che attraiamo più pazienti anche dalle altre regioni. Ma la vera novità in oncologia sono i nuovi farmaci, le nuove biotecnologie che ci permettono, se usate appropriatamente, se usate intelligentemente, di salvare vite che prima non potevamo neanche pensare di salvare. Con un totale di 800 mila euro di investimento, sono stati ultimati sia i lavori di trasferimento del centro e delle precedenti strutture, sia l'acquisto di nuove attrezzature. È stato poi predisposto un sistema elimina-code. Saranno due distinti percorsi a svolgere tale funzione. Il primo sarà il percorso ambulatoriale nel corridoio interno, l'altro il percorso di trattamento collocato nel corridoio esterno. Inoltre una nuova zona per il trattamento chemioterapico, arricchita di 19 postazioni, ognuna dotata di poltrone di nuova fornitura, collegate al sistema di chiamata infermieri, alla rete dati e all'alimentazione elettrica. Insomma, una struttura completamente rinnovata che va ad arricchire ulteriormente la qualità dell'offerta sanitaria della ASL, ha commentato il presidente Rossi, che si è detto soddisfatto anche per l'altro obiettivo che la sanità retina conta di realizzare. Si tratta infatti della riconversione della palazzina del Calciti, in hospice ambiente adibito alla permanenza diurna e notturna per pazienti con problematiche e patologie di varia natura. Come avete potuto vedere abbiamo avuto un problema tecnico su questo ultimo servizio che invece si occupava dell'inaugurazione del nuovo centro oncologico dell'ospedale San Donato di Arezzo. Invece ora andiamo proprio a parlare del Consiglio Comunale di Arezzo in cui si è parlato della delibera sulla razionalizzazione delle partecipate e si è aperto il confronto nella fusione tra Atam e Arezzo. Molti servizi, vediamo. Secondo i tempi e le scadenze previsti dalla legge di stabilità anche il Comune di Arezzo ha presentato nell'ultima riunione del Consiglio Comunale la derivera sulle società partecipate. Una razionalizzazione che, come ha ricordato l'assessore Paola Magnanenzi, deve essere realizzata per obbligo di legge. Il principale dibattito su questo tema si è aperto sulla possibile fusione di Atam e Arezzo Multiservizi, società entrambe in cui il Comune di Arezzo ha una quota di controllo assoluto, che ha visto la posizione completamente contraria del presidente di quest'ultima, Luciano Vaccaro. L'operazione di aggregazione tra Atam e Arezzo Multiservizi è un errore, afferma Vaccaro, e lo dico non per difendere la poltrona, ma alla luce della mia esperienza maturata in questi anni di gestione del servizio cimiteriale. Tanto più se si considera che Arezzo Multiservizi non rappresenta un costo della politica, ma al contrario ha dimostrato con un lavoro quotidiano di essere un esempio virtuoso di buona amministrazione, addirittura a livello nazionale. L'assessore Magnanenzi tuttavia ricorda come nulla di definitivo sia stato deciso, sono state fatte delle proposte e su queste si rifletterà con i diretti interessati e si arriverà a una fase attuativa entro il 31 dicembre. L'operazione deve essere un'operazione che tende solo e esclusivamente a razionalizzare, non a creare ulteriori difficoltà o a far sì che i servizi non siano resi come devono essere resi. Mi riferisco in particolare alle aziende dove il Comune ha il totale controllo, per cui si parla di Multiservizi e di Atam. In questo caso il progetto è veramente tutto da studiare, insieme ai referenti, perché sono due realtà completamente diverse, due realtà che svolgono servizi essenziali per il Comune, per cui qualsiasi decisione va presa nel rispetto dei servizi dei cittadini e di quello che vogliamo razionalizzare, se razionalizzazione c'è. La legge prevede questo ridimensionamento, accorpamento e quanto altro. La cosa che chiedo ai futuri amministratori, a quelli, visto che un po' conosco la situazione, è di guardare, più che altro che a una semplice fusione a freddo, a un progetto vero e proprio industriale per questi accorpamenti. Nel senso che, se si accorpano due società, c'è da vedere anche un progetto industriale di sviluppo di queste società che possono migliorare anche altri servizi, che non sia solo una fusione parcheggio, cimiteri, come si sta parlando in questi giorni, ma sia più una visione ampia, se viene fatta una società anche grande e importante, che possa dentro di sé accorpare più servizi da migliorare o che continuano a essere dati come sono oggi. E sulla questione della razionalizzazione delle partecipate è intervenuto il consigliere comunale Alessio Mattesini. Il consiglio comunale, ha dichiarato Mattesini, ha voluto trasmettere uno spot da campagna elettorale con un piano che viene semplicemente dato in mano a chi verrà. È il passaggio di un testimone che certifica la molta enfasi e la poca operatività del PD e della sua giunta, conclude il consigliere comunale di Forza Italia. Inoltre, nella seduta di questa mattina, il dibattito sull'attività 2014 della giunta è stato aperto dal consigliere Roberto Barone, che ha dichiarato di non vedere un'impronta politica nella relazione 2014 sull'attività amministrativa. Poi, l'intervento sulla questione della raccolta dei rifiuti, porta a porta. Il comune avrebbe potuto essere più rapido e incisivo, ha dichiarato Barone. L'ispettore ambientale è stato istituito nel 2010, ma non l'abbiamo visto all'opera. Anche il consigliere Mori ha evidenziato il tema dei rifiuti, in modo particolare il programma Rifiuti Zero, per il quale, spiega Mori, è stata fatta una delibera poi tenuta nel cassetto. Non è stato dato seguito all'atto amministrativo. Il prosindaco Stefano Gasperini ha replicato evidenziando che due mandati amministrativi non possono essere valutati sul lavoro dell'ultimo anno. Su quanto è stato fatto, si esprimeranno ovviamente gli elettori. Da dove nascono le stelle, al Mecenate si chiude la rassegna di danza contemporanea di Sosta Palmizzi. Vediamo. Sarà il nuovo spettacolo di Giorgio Rossi e Simone Sandroni, Da dove nascono le stelle, a chiudere la settima edizione di Invito di Sosta, la rassegna dedicata alla danza contemporanea di autore promossa dall'associazione Sosta Palmizzi. L'appuntamento è per domenica 12 aprile alle 18.15 presso il Teatro Mecenate di Arezzo. Che spettacolo attende il vostro pubblico? È uno spettacolo, è un duo, scritto, diretto, danzato, coreografato da Giorgio Rossi e Simone Sandroni. È una coproduzione umbra toscana di due compagnie ed è uno spettacolo, speriamo, toccante, toccante, divertente, che fa ridere di se stessi, speriamo, e che ci faccia sorridere, che ci faccia emozionare, usare la danza, usare il palcoscenico per raccontare qualche cosa di soprattutto umano. Sarà un avant-premier, quindi prima dell'esordio. Noi arriveremo preparatissimi domenica, però è una serie di avant-premier che stiamo facendo, ci sarà il 17 aprile anche a Perugia, un'altra replica, una serie di avant-premier di uno spettacolo che speriamo possa avere una premiere da qualche parte, una prima, e possa continuare a circuitare. Come dicevamo, da dove nascono le stelle chiude la rassegna invito di sosta. Qual è il bilancio di questa settima edizione? Il bilancio è positivo perché il pubblico è in crescita, soprattutto si diversifica, nel senso che non sono sempre gli stessi, ogni volta abbiamo delle facce nuove. Ed è positivo perché portare la gente a teatro, distoglierla dalla distrazione, e della stare in casa davanti alla televisione è comunque un successo. Per un progetto che si conclude ce n'è un altro che appena è iniziato, che è il progetto Incamminarsi, rivolto ai danzatori amatori, quindi una danza portata di tutti. Cerchiamo di portare la danza, che è qualcosa che ci riguarda tutti. Potete trovare le informazioni sul nostro sito www.sostapalmizi.it, ci trovate anche su Facebook, ci sono gli eventi. Il 5 maggio scade il termine per la presentazione del certificato medico per chi detiene armi nel caso in cui siano trascorsi sei anni dall'ultimo rinnovamento della certificazione medica presentata. La certificazione medica aggiornata, comprovante l'idoneità psicofisica prevista, è rilasciata in bollo dalla USL o dagli uffici medico-legali sulla base del certificato anamnestico del medico di famiglia e dovrà essere fatta pervenire dagli interessati all'ufficio presso il quale sono state denunciate le armi entro il 4 maggio 2015. Nel caso di eventuale inadempimento della presentazione del suddetto certificato, la detenzione delle armi possedute sarà considerata illegittima. E come ogni giovedì torna l'appuntamento con Nessuno Escluso, lo spazio del terzo settore, la rubrica di TSD dedicata al mondo del volontariato. Quest'oggi Nessuno Escluso ci porta alla scoperta della karate per persone con disabilità. Vediamo i nostri inviati speciali Gianmarco e Paolo. La pratica di una disciplina sportiva può migliorare le funzionalità di una persona con disabilità, favorendo una maggiore autonomia. Questa settimana Nessuno Escluso vi porta alla scoperta del progetto CADA, il karate adattato ai diversamente abili, promosso dall'associazione sportiva Ombudogio di Arezzo. La pratica è dunque il fare come metodo vero e proprio per l'apprendimento. E' questo il principio di base del progetto CADA. Come si struttura il percorso? Se è pur vero che è necessario pensare e organizzarsi strategicamente prima di muoversi, è anche vero che il movimento è alla base di quello che facciamo, in quanto ci consente di avere da subito un feedback, quindi sviluppare un'autocritica nei confronti di se stessi. Questo è il principio dell'arte marziale. Come si suol dire, la mente mente e quindi se non facciamo corriamo il rischio di essere tratti in inganno da noi stessi. Il percorso nell'ambito del CADA è comunque legato a un'assoluta gradualità e soprattutto a un adattamento, quindi c'è un grandissimo rispetto e attenzione per la persona, in maniera tale che l'esercizio sia commisurato alle capacità tecniche del momento. Cosa significa essere operatore CADA e come lo si diventa? La nostra associazione ha pensato di strutturare dei corsi per poter diventare operatore CADA. Per poter insegnare karate e poterlo adattare alle persone che abbiamo di fronte, è necessario impegnarsi ad aumentare le proprie capacità tecniche e le proprie competenze. Io stesso, che sono praticante di karate da quasi 38 anni ormai, ho sentito la necessità di ampliare il mio bagaglio tecnico per poter approcciare un argomento così e lontano da quello che era il mio modo di intendere il karate. La didattica l'abbiamo sviluppato che si rifà comunque al karate tradizionale, che già di per sé offre una didattica ben strutturata da ormai qualche centinaio di anni. Quindi non è un contesto di tipo sportivo, ma è un qualche cosa che si rifà alle radici del karate e comunque di tutte le arti marziali in genere, che sono nate essenzialmente per il miglioramento dell'individuo e non per le competizioni. Quali i risultati ottenuti dai CADA Boys? I risultati ottenuti dal nostro gruppo sono senz'altro confortanti e ci hanno ripagato molto. Siamo riusciti a partecipare con un gruppo ben nutrito, ben a due campionati internazionali dedicati a disabili organizzati dall'Oxen. L'altro grande obiettivo è stato quello di far sì che il gruppo dei CADA Boys partecipasse in maniera attiva e costante a tutte le iniziative della nostra associazione. Parliamo ora della mostra Gold Italy Gold Star Neck a Porte, un evento all'insegna dell'eccellenza orafa italiana. Oro Arezzo sarà presente a Shenzhen dall'8 al 10 aprile 2015 con una mostra per far conoscere al pubblico internazionale l'innovazione più creativa e per valorizzare il cuore d'oro d'Italia, le sue aziende orafe e la grande tradizione dell'oro e dell'argento. L'esposizione in Cina nasce dalla collaborazione tra Arezzo Fiere e Congressi ed uno dei più importanti players commerciali del settore orafo cinese, Shenzhen Yueo Jewelry Co. Ltd. Arezzo vuole valorizzare e promuovere le aziende espositrici di oro Arezzo e Gold Italy nei mercati esteri. Abbiamo scelto di essere a Shenzhen in questo evento di business perché è la cornice più raffinata per presentare al pubblico del sollevante tutto il bello della tradizione orafa made in Italy, un'arte che il mondo ci invidia. Così il presidente di Arezzo Fiere e Congressi Andrea Boldi. Siamo allo sport Arezzo e logistica per i campi di allenamento. La nuova soluzione in città sarebbe Villa Severi. Sabato al comunale arriva la Cremonese. Vediamo. Nonostante l'Arezzo si appresti a tornare in campo nel match con la Cremonese al termine della sosta pasquale, l'attenzione mediatica è concentrata sulla questione logistica. Nelle ultime ore c'è stato l'incontro tra l'amministrazione comunale e la società di Viale Gramsci rappresentata dal vicepresidente De Martino e dal tecnico Amaranto Ezio Capuano. Il comune svolgerà il ruolo di mediatore con i proprietari dei campi di allenamento Lebole e Zampolin. All'Arezzo Calcio sono poi state prospettate alcune soluzioni con l'obiettivo di giungere entro la primavera ad una scelta definitiva. Tra le possibilità prende campo la struttura di Villa Severi. Sicuramente ci interessa e quindi aspettiamo che adesso ciò che ci è stato promesso, ma sicuramente sarà fatto perché l'amministrazione si è mostrata almeno in questo ultimo periodo molto vicino all'Arezzo, ci darà questi spazi e noi ne saremo fieri e orgogliosi. Se per Villa Severi qualche dubbio ancora è concesso, passa da ipotesi a fatto concreto l'impianto di Lanave, con la struttura situata alle porte di Castiglion Fiorentino che potrebbe anche ospitare il ritiro precampionato degli Amaranto. Il dottor Ferretti sta spendendo tanti soldi per costruire questo impianto che sicuramente sarà di proprietà dell'Arezzo e a disposizione dell'Arezzo. Un altro argomento caldo è costituito dal settore giovanile. Chiare le intenzioni della società di investire in questo ambito, da stabilire ancora in che modo si risolveranno i rapporti tra OS-Arezzo e Football Academy per la prossima stagione. Ribadisco che l'Arezzo ha intenzione di fare un grandissimo settore giovanile, ma a prendere le decisioni su tutto e soltanto Mauro Ferretti. Tornando al calcio giocato, sabato al città di Arezzo arrivano i grigiorossi di Giampaolo, fischio d'inizio dell'arbitro Capilungo di Lecce alle 16. È una partita importantissima, vogliamo allungare la striscia positiva e soprattutto vogliamo confermare questa classifica e vogliamo dare il primo sogno ai tifosi aretini che vogliono fare un derby che ci credono molto e io farò di tutto affinché questo avvenga. Ancora allo sport, la Chimera Nuoto conquista i pass per i campionati italiani di fondo e indoor. L'importante obiettivo è stato raggiunto da Daisy Bertelli, Carolina Bindi, Eleonora Camisa ed Elisa Fazzuoli che nei 3.000 stile libero della categoria ragazzi femmini hanno ottenuto i tempi per poter partecipare alla più importante manifestazione nazionale dedicata alle lunghe distanze. Questo bel risultato è arrivato in occasione dei campionati regionali Liguri Open di Genova, una manifestazione a cui la Chimera Nuoto ha gareggiato per la prima volta, riuscendo immediatamente a lasciare il segno. Un dominio assoluto è arrivato proprio nella gara femminile dei 3.000 stile libero in cui le atleti aretine hanno monopolizzato il podio con l'oro di Bertelli, l'argento di Bindi e il bronzo di Fazzuoli. E con questo è tutto per questa edizione di TSD Notizie, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.